Domenica la partitissima San Marco Trotti-Giugliano, la prova del direttore sportivo Francesco Mennitto, direttore, sarà la partita di cartello della prossima giornata di campionato di eccellenza. Affrontiamo un impegno da volta, eravamo concentrati su questa difficile festa con l'Oscasia e siamo soddisfatti del risultato. Noi avevamo già detto qualche settimana fa che per gli incroci del calendario c'erano quattro impegni concentrati, uno dietro l'altro tutti quanti impegnativi. Uno per volta, se oggi possiamo considerare un esame per le ambizioni del San Marco, questo test contro la partita del campionato di eccellenza di eccellenza, l'Oscasia sicuramente ne esce una squadra che deve avere qualche consapevolezza e qualche certezza in più. Eccato bene il risultato, c'è Dammarico per come andare dalla gara, però abbiamo di fatto una grande squadra e se la giocherà fino alla fine, quindi siamo conosciuti per il futuro.